buongiorno e benvenuti a questo nostro appuntamento con il laboratorio delle fragranze e qualche giorno fa nella sezione biblioteca profumata vi ho raccontato di un libro che mi aveva particolarmente colpito mi aveva particolarmente coinvolto intitolato il profumo rubato questo libro era incentrato sulla storia dell'acqua di colonia e vi avevo promesso che avremmo parlato di una serie di materiali componenti appunto di questa fragranza cominciamo con un'essenza che in questi giorni è in piena fioritura le foto che vediamo qui sono state scattate dalla mia finestra quindi vedete il mio piccolo rosmarino con tanti fiori e poi nel paese dove abito in cui possiamo assistere invece a un veramente un abbondanza di fioritura e di produzione quindi siamo nel periodo del rosmarino e al rosmarino cominciamo a dedicare l'analisi di una componente profumata importante all'interno dei profumi come in tutti gli incontri che abbiano una finalità in qualche modo didattica che che si rispettino voglio cominciare dalla grammatica quindi prendiamo come riferimento il nostro libro grammatica dei profumi in cui abbiamo una bellissima presentazione della rosmarino vi mostro anche le illustrazioni che sono assolutamente deliziose e cominciamo a considerare quelle che sono le caratteristiche più immediatamente evidenti di questa essenza allora il rosmarino nome botanico rosmarinus officinalis viene definito anche la rugiada di mare vedremo presto perché ci dice giorgia martone la poesia olfattiva del rosmarino arbusto aromatico sempre verde che con le sue note dolci amare cresce selvaggio in tutto il bacino mediterraneo inizia con le sue radici etimologiche dal latino rosmarinus rugiada di mare per il colore azzurro dei suoi fiori che ricordano gocce di rugiada di mare contrastano con il verde vigoroso dell'arbusto una seconda interpretazione cita rosa e maris rosa del mare ed è ugualmente evocativa della potenza olfattiva di questa pianta che presenta un fusto ramosissimo foglie lineari verdi intense persistenti e coriacee fiori piccoli a corolla azzurrina e diffonde un aroma meraviglioso il rosmarino la pianta balsamica per eccellenza ricca di virtù terapeutiche rappresenta la vera essenza mediterranea e il suo profumo aleggia come indiscusso sovrano nelle zone costiere fatte di sinuose colline aeree montagne romantiche lagune salmastre dune sabbiose rocce e mare con i suoi rami grigio argente e le sue foglie color verde cupolucente ricche di ghiandole oleifere raggiunge circa i tre metri e a radici profonde fibrose resistenti e ancorati in primavera inoltrata durante la piena fioritura degli arbusti sempreverdi il nettare dei suoi fiori color lilla indaco e azzurro violaceo unito al profumo delle sue foglie paragonabile all'incenso si unisce all'effluvio di mare sole e iodio creando l'inconfondibile e meraviglioso aroma di macchia mediterranea ecco già qui in questa descrizione abbiamo sintetizzate tutta una serie di caratteristiche che andremo via via sviscerato ricordiamo il metodo di estrazione l'olio essenziale dal caratteristico profumo fresco balsamico e canforato è distillato in corrente di vapore acqueo utilizzando le sommità fiorite e le foglie viene raccolto in aprile maggio e giugno un chilo di olio si estrae da circa 50 kg di rametti di rosmarino composti da sommità fiorite e foglie il rosmarino in profumeria appartiene alla famiglia olfattiva aromatica la sua sfaccettatura è fiorita erbacea verde balsamica il suo profumo quindi è fresco balsamico canforato fiorito e incensato per quel che concerne le curiosità legate a questa pianta l'autrice della grammatica dei profumi ricorda che il legame del rosmarino con il territorio toscano è molto forte qui viene infatti raccolto in concomitanza con la festa di san giovanni il 24 giugno al solstizio d'estate in questo giorno in cui si celebra il matrimonio del sole fuoco con la luna acqua falò fatti con rami di rosmarino purificano l'aria e questo mi dà un po la dritta per ricollegarmi a quelli che sono i riti di san giovanni che vengono fatti anche senza nessun significato esoterico da chi si occupi di produzione cosmetica e profumeria botanica riteniamo che in quest'epoca dell'anno le piante oleifere siano al massimo della loro espressione quindi il mese di giugno potrebbe anche essere un mese ideale per chi si dedichi all'autoproduzione per realizzare un oleolito di rosmarino che utilizzerà poi nel corso dell'anno per quanto riguarda le proprietà officinali del rosmarino che tratteremo in qualche modo viene considerato una pianta antiossidante balsamica energetica purificante tonica e vitalizzante proprietà queste che si ritrovano sia negli usi che se ne fanno in aromaterapia o aromacologia che dir si voglia sia all'interno dei profumi abbiamo come vi ho detto individuato tutta una serie di caratteristiche cominciamo pian piano a prenderli in considerazione una delle autrici che più amo si chiama mara bertona e ha scritto uno dei testi che per me sono fondamentali sia per quanto riguarda la produzione cosmetica sia per quel che concerne l'aromaterapia è il grande libro dell'aromaterapia e aroma cosmesi di cui parleremo anche all'interno della nostra biblioteca profumata or bene la dottoressa bertona insegna lettere antiche e questo approccio particolarmente attento alla storia e alla storia classica è uno degli aspetti che mi rendono particolarmente caro il suo libro parlando del rosmarino ci ricorda che è una pianta originaria del bacino del mediterraneo e dell'asia sud occidentale dell'india è arrivata talmente presto nei nostri ambienti che noi siamo abituati a considerare una pianta nostrano una pianta di casa di cui facciamo uso spessissimo e questo si deve grazie anche all'influenza del mondo greco e latino tracce di rosmarino si sono trovate nelle tombe degli antichi egizi e soprattutto nel mondo greco romano è stata un'essenza particolarmente apprezzata prima abbiamo nominato il termine incenso quindi incensum nell'ambito classico era qualsiasi cosa qualsiasi pianta odorifera che si potesse ardere per rendere omaggio alla divinità grazie appunto alla produzione di fumi balsamici e di conseguenza il nostro rosmarino entra a pieno titolo nella caratteristica famiglia degli incensum dell'antichità abbiamo parlato di caratteristiche toniche effetto tonico il rosmarino tira su e leva quindi nel mondo greco romano veniva utilizzato anche per chi volesse aumentare la propria concentrazione e la propria presenza mentale delle corone composte anche con rami di rosmarino venivano indossate dagli studenti dagli oratori in modo tale appunto da favorire la propria concentrazione anche qui ne traiamo un insegnamento e un consiglio pratico particolarmente utile noi possiamo utilizzare il nostro olio essenziale di rosmarino mettendolo in diffusione nel diffusore quando stiamo lavorando ad esempio in questi periodi di smart working siamo a casa non diamo fastidio a nessuno possiamo tenere acceso il diffusore con le nostre essenze quindi mentre stiamo lavorando mentre stiamo studiando aiuterà a mantenere la concentrazione il tono in qualche modo a evitare quei cali di attenzione quella stanchezza che sono collegati al lavoro e alla concentrazione sullo stesso parimenti l'effetto tonico del rosmarino l'effetto vitalizzante si può avvertire nel momento in cui mettiamo sempre qualche goccia di olio essenziale nell'olio per la doccia in modo da poter allontanare con la prima doccia del mattino quei residui di sonno e di pesantezza che ci portiamo dietro dalla notte nel mondo classico il rosmarino accompagnava l'intero ciclo di vita dell'essere umano quindi era presente alla nascita era presente nei riti di gli sponsali favoriva si diceva la sensualità ed era anche presente la pianta di rosmarino sulle tombe perché concludeva appunto il ciclo di vita già nell'antichità se ne conoscevano le capacità conservative pensiamo alla cucina noi in ambito mediterraneo utilizziamo tanto il rosmarino in cucina e questo ha una storia antica perché il rosmarino serviva per conservare i cibi conservare i cibi conservare le carni e questo è già diffuso appunto nel mondo romano se ne parli gli autori ne parlano e questo questa tradizione si diffonde nel corso del tempo passiamo all'epoca medievale in epoca medievale quelle caratteristiche di legame con la religione che abbiamo visto nel rosmarino utilizzato come incenso si traslano in qualche modo in un altro mondo il mondo magico quindi il rosmarino comincia a essere considerato una pianta magica e ad essere oggetto di leggende di storie di fiabe di canzoni che hanno per protagonisti gli spiriti di natura oppure delle creature fantastiche gli elfi e così via e allo stesso tempo viene utilizzato anche a livello pratico a livello pratico a uno degli esempi più interessanti di questi usi ci viene tramandato da uno studioso arabo i bel beytar sappiamo che gli arabi in epoca medievale hanno avuto un ruolo fondamentale nella preservazione nella conservazione della tradizione profumiera dell'antichità e che hanno sviluppato anche la tecnica della distillazione quindi protagonisti veramente importantissimi di quest'epoca tra i loro studiosi appunto il nel beytar nel trattato dei semplici ricordiamo che i semplici semplici è il termine che viene utilizzato per individuare le erbe aromatiche or bene nel trattato dei semplici il nel beytar ricorda che i cacciatori una volta uccise le loro prede facevano uso di rametti di rosmarino di foglie di rosmarino con le quali impedivano che le carni si decomponessero troppo velocemente e dell'uso medicamentoso del rosmarino c'è un'altra citazione nel trattato quando l'autore afferma che veniva utilizzato polverizzato come cicatrizzante quindi il rosmarino cicatrizzante la polvere veniva applicata sulle ferite da circoncisione sul cordone umbilicale dei neonati appunto per favorirne la guarigione e di questo significato magico taumaturgico e variamente utile abbiamo anche delle dei ricordi in da un punto di vista iconografico nei bestiari medievali mi piace particolarmente questa immagine trovo bellissima appunto di un bestiario medievale all'interno del quale accanto a queste piante di rosmarino così ordinatamente disposte vediamo un meraviglioso drago anche questo si ricollega all'idea che il rosmarino fosse una pianta curativa e cicatrizzante perché si tramandava che la polvere di rosmarino avrebbe avuto dei poteri curativi nei confronti dei morsi inferti dai draghi quindi nuovamente c'è questo legame tra magia medicina cura e piante uno dei protagonisti del medioevo cristiano l'imperatore carlo magno con un editto apposito aveva decretato che in ogni giardino del proprio impero vastissimo dovesse essere proprio piantata una pianta di rosmarino perché avrebbe avuto delle capacità di protezione e sarebbe stata utilizzata appunto per la cura passiamo al tardo medioevo quando un episodio di importanza capitale in qualche modo tranchant viene a sconvolgere l'equilibrio del mondo a noi conosciuto sto parlando della peste velocemente riassumiamo poi tratteremo l'argomento in altre sezioni un vascello genovese a Odessa fa un carico di granaglie siamo intorno al 1348 insieme a questo carico vengono imbarcati anche dei ratti che si nutrivano appunto di queste granaglie e nel pelo dei ratti albergavano le pulci che avrebbero diffuso la peste nera che avrebbe sconvolto l'intera Europa nei due anni successivi dimezzandone la popolazione or bene di fronte a questo morbo particolarmente letale non c'erano vie di cura se non quello di ricorrere anche qui in qualche modo a delle soluzioni che mescolavano conoscenza e magia tra queste soluzioni c'era quella di fare un ampio ricorso a delle erbe che si consideravano curative quindi tornano in qualche modo le nostre erbe aromatiche rami di timo e di rosmarino venivano bruciati nei camini polvere di erbe aromatiche venivano sparse sui pavimenti delle case per cercare di mantenere appunto un ambiente pulito e anche l'atmosfera particolarmente disinfettata lo stesso questi preparati venivano utilizzati dai medici per proteggere se stessi e nei confronti dei malati ed è poco dopo intorno al 1370 che noi possiamo pensare sia stato creato il primo profumo a base alcolica che abbia delle caratteristiche di similitudine con i profumi che utilizziamo oggi nei nel nostro nel nostro uso quotidiano sto parlando dell'acqua di ungheria o acqua della regina di ungheria anche qui noi raccontiamo molto spesso la fiaba legata a questo profumo in realtà per esempio non sappiamo chi fosse questa regina d'ungheria le cronache ci tramandano l'esistenza di una tale Isabella o Elisabetta il nome nelle varie allitterazioni si si trasforma non sappiamo però chi fosse questa Elisabetta d'Ungheria qui vi ho messo una bellissima immagine di Simone Martini che ritrae Santa Elisabetta d'Ungheria ma Santa Elisabetta d'Ungheria non era una regina talvolta si pensa che potesse essere Elisabetta di Polonia però i particolari della sua vita non coincidono con quelli delle leggende più comuni durante un incontro organizzato dall'Osmotec si parlava della regina d'Ungheria come appunto la reggente di Polonia dovrebbe essere però una regina vissuta in epoca molto più tarda quindi non addentriamoci nella ricerca della sua identità pensiamo ad una regina Isabella d'Ungheria che è vissuta intorno a quell'epoca e che era arrivata alla veneranda età di 72 anni con una serie di acciacchi quali la gotta, i reumatismi, mal di testa tutta una serie quindi di disturbi che sarebbero stati curati grazie all'intervento di un monaco anche qui non sappiamo se un monaco eremita, un monaco di clausura un monaco alchimista o addirittura un alchimista di corte fatto sta che questo individuo avrebbe in qualche modo cercato di alleviare le sofferenze della sovrana facendole dono di un'acqua particolare e di un'acqua particolarmente benefica e quest'acqua ci racconta sempre il nostro libro non soltanto avrebbe alleviato i mal di testa e i dolori della regina ma addirittura avrebbe avuto un effetto di ringiovanimento e di tonicità assoluto tanto che il re di Polonia che era poco più che trentenne l'avrebbe chiesta in sposa parlando di questo fatto all'osmotech si narrava che se la regina fosse stata reggente di Polonia le intenzioni dell'erede al trono quindi del re di Polonia erano tutt'altro che dettate dall'amore per una rinnovata bellezza quanto da ragioni di assoluto e inconfondibile interesse dunque torniamo alla nostra regina della leggenda la quale all'interno di un suo breviario racconterebbe esattamente come è andato il fatto quindi Isabella racconta apparvi dopo questa cura bella a ciascuno e chiesta in sposa al re di Polonia lo rifiutai per amore di nostro signore Gesù Cristo e per la idea che detta ricetta mi fosse mandata da un angelo e poi annota anche la formula originale dell'acqua di Polonia dell'acqua di Ungheria scusate acquistate 30 once di acquavite quattro volte distillata e 20 once di fiori di rosmarino mettete tutto in un vaso ben chiuso per 50 ore e distillate in alambico quindi ci dà anche proprio una ricetta una ricetta che noi possiamo in qualche modo a modo nostro convertire e traslare per realizzare una essenza fresca tonica quindi vitalizzante che possiamo usare soprattutto in periodo estivo quando quando ne sentiamo il bisogno quindi basta che ci procuriamo una limitata serie di ingredienti e possiamo creare appunto il nostro profilo cominceremo con dell'alcol quindi 100 ml di alcol a 90 gradi quindi questo è alcol alimentare che si trova in qualsiasi supermercato per abbassarne il tenore alcolico aggiungeremo 10 ml di idrolato di rosa degli idrolati abbiamo parlato in un incontro del laboratorio di qualche tempo fa con Antonella Ziliani 10 ml di idrolato di neroli che altro non è se non acqua di fiori d'arancio poi aggiungeremo a tutto ciò 12 gocce di olio essenziale di rosmarino 12 gocce di olio essenziale di arancio dolce e 12 gocce di olio essenziale di limone per mescolare gli ingredienti utilizziamo un vaso di vetro io ho questi flaconi per esempio che recupero dall'echinacea che bevo ogni mattina poi li sterilizzo li lavo benissimo ecco qui dentro noi mettiamo gli ingredienti chiudiamo misceliamo e io vi consiglierei di lasciarli a riposo in un luogo buio per un mese scuotendo di tanto in tanto questo vasetto dopodiché trascorso il mese mettiamo il vasetto nel congelatore per una notte e la mattina successiva filtriamo il liquido e lo imbottigliamo sempre in una boccetta di vetro scuro con questo espediente avremo ottenuto come vi dicevo un profumo particolarmente tonico che ci potrà rinfrescare per esempio nei mesi prestivi ecco l'acqua di Ungheria come vi dicevo inizialmente veniva considerata un medicamento e di conseguenza così è stata concepita e utilizzata nel corso dei secoli dal 1300 si ritrova con mille varianti nei ricettari delle varie epoche e celebri donne di ogni secolo ne fanno costante riferimento tessendone le lote nel 500 un testo latino di farmacopea descrive la distillazione dello spiritus roris marini sive acqua regine ungarie mentre nel 600 francese la bellissima Madame de Sauvigny facendo eco ad altre preziose dame affermava di essere inebriata da questa acqua perché è il sollievo di tutti i mali ed è buona contro la tristezza qui vediamo appunto l'effetto corroborante del rosmarino che insieme agli agrumi apporta le vita anche alla mente allontanando i pensieri pesanti inoltre le cronache dell'epoca riferiscono che il re sole che da un lato era definito il re più odorante del mondo e dall'altro non aveva una grande passione per la pulizia però ritiene che l'acqua di Ungheria riteneva che l'acqua di Ungheria l'avesse guarito da un reumatismo ad un braccio quindi questa passione per l'acqua di Ungheria si propaga nel corso del tempo fino a arrivare alle soglie del novecento quando ormai le caratteristiche di beneficità a livello farmacologico vengono soppiantate dall'apprezzamento a livello cosmetico quindi viene usata particolarmente come tonico sia per il viso per la pelle ma soprattutto come profumo la pestilenza non è un fenomeno che rimane confinato alla tarda epoca mediorale nel corso dei secoli più o meno periodicamente si sono avuti degli afflati nuovamente del morbo che vengono a colpire il continente e di conseguenza il nostro rosmarino rimane una delle componenti più importanti dei rimedi che si cercano di adottare per ottenere un linimento da questo da questo da questa malattia con il passare dei secoli si ritiene che dei preparati a base acetica abbiano la capacità di guarire e quindi il rosmarino rientra in in parte considerevole nella preparazione di questi di questi medicamenti tra i più famosi noi ricordiamo un aceto dal nome abbastanza curioso l'aceto dei quattro ladri che è un'elaborazione tardosecentesca si ritiene che nella grande peste del 1628 di Tolosa sia stata diciamo portata a completamento la formula successivamente utilizzata perché tramandano proprio gli archivi del del tribunale di Tolosa che durante l'imperversare di una fortissima epidemia di peste in città si verificarono tutta una serie di furti all'interno delle case soprattutto delle case di chi era stato colpito dal morbo e che i colpevoli di questi furti ad un certo punto vennero catturati di fronte alla prospettiva di essere suppliziati orribilmente prima di essere uccisi rivelarono il segreto di ciò che li manteneva in buona salute fondamentalmente un preparato di tipo acetico abbiamo delle ricette considerate classiche la prima sosteneva che in una damigiana di 4 litri di aceto versare dopo averle accuratamente macinate 30 grammi delle sommità fiorite ed essiccate di ciascuna delle otto erbe seguenti timo lavanda citronella salvia rosmarino menta ruta e assenzio poi 4 grammi di sommità fiorite essiccate di aglio 4 grammi di chiodi di garofano noce moscata cannella radice di calam aromatico riporre la damigiana in un posto caldo lasciare a riposo per 15 giorni quindi filtrare travasare e aggiungere 8 grammi di canfora sciolti in alcol e aceto e poi mescolare bene dalla una ricetta più recente tratta dal manuale del profumiere di Gorini che è un autore ottocentesco abbiamo queste indicazioni si prende un ettogrammo circa di foglie di assenzio 27 grammi per sorta di foglie di rosmarino salvia menta ruta 50 grammi di fiori di lavanda 7 grammi per sorta di radice di calamo aromatico di corneccia di cannella di garofano e di noce moscata si taglia tutto questo in pezzi si sbriciola finemente si pone con 2 kg di aceto in un fiasco il quale chiuso si tiene esposto per 8 giorni al sole indi si preme la materia e vi si aggiungono 7 grammi di canfora disciolta in spirito di vino quindi tutta una serie di preparati acetici ancora oggi riproducibili i quali avrebbero delle caratteristiche disinfettanti caratteristiche disinfettanti che venivano utilizzate ad esempio dai famosi medici della peste pensiamo alle maschere veneziane quelle con lungo becco all'interno all'interno di questo becco venivano posti dei tamponi in cui si si che erano che erano riempiti imbibiti di questi aceti e che avrebbero dovuto in qualche modo preservare il respiro i polmoni di coloro che prestavano assistenza siamo appunto giunti nella nostra carrellata storica alla fine del seicento ed è a questo punto il momento di parlare di acqua di colonia ci portiamo nella Val Vigezzo Val Vigezzo zona Verbano Cusiossola quindi nord del Piemonte da cui proviene questo signore che vediamo in questi due ritratti si tratta di Giovanni Paolo Feminis Giovanni Paolo Feminis nasce a Crana in Val Vigezzo terra di Spazzacamini terra estremamente povera avara l'abbiamo visto bene nel libro di cui abbiamo parlato nella biblioteca e nella colonia nel profumo rubato lì si moriva letteralmente di fame quindi le persone emigravano Giovanni Paolo Feminis inizialmente comincia a produrre dei preparati che vende nei giorni di mercato si chiamano acque acque mirabilis perché hanno delle caratteristiche appunto medicamentose e di queste acque mirabilis ne abbiamo di tutti i tipi e con ogni ingrediente possibile c'era l'acqua di ciliegie contro la nefrite c'era l'acqua spaccaocchiali che veniva fatta con il fiordaliso e l'acqua derivata dalla neve che si riteneva avesse effetti benefici per gli occhi quindi tutte queste acque medicamentose venivano proposte come medicina a chi ne avesse bisogno avesse i soldi per acquistarle ad un certo punto però Feminis emigra inizialmente si pensa come apprendista di un commerciante vigezzino e va in Germania terra particolarmente collegata con la valle vigezzo dove già molti suoi conterranei si erano stabiliti come c'è stato appunto ben descritto nell'adorabile romanzo di cui abbiamo parlato e qui con la sua acqua Mirabilis in qualche modo fa fortuna passa poi dal inizialmente da Magonza dove viene registrato come crema come quindi come commerciante a Colonia dove si ritiene vivesse una zia Catarina che aveva un negozio di franceserie quindi di accessori di belletti e cose varie che Giovanni Paolo Feminis va ad aiutare e proprio qui sviluppa la sua acqua Mirabilis crea una formula unica acqua che come abbiamo appunto descritto viene assunta non solo come profumo per la persona ma anche a livello orale per sanare tutta una serie di malattie e quest'acqua passa ad essere denominata da acqua Mirabilis Giovanni Paolo Feminis a acqua di Colonia in omaggio appunto della città che così bene l'aveva accolto e in cui si era stabilito così giungendo appunto a una condizione di benessere che gli aveva permesso anche di fare tutta una serie di donazioni alla natia patria come ci veniva descritto nel romanzo venivano mandati dei soldi in patria per ad esempio finanziare un oratorio all'interno di una chiesa piuttosto che la scuola locale ecco ad un certo punto il Feminis muore anche abbastanza giovane e la sua attività viene continuata e proseguita da un suo collaboratore che si chiamava Giovanni Antonio Farina accanto a questo c'è un'altra figura che è questa di Giovanni Maria Farina che era un altro commerciante vigezzino che si era stabilito a Maastricht in Olanda il quale aveva sicuramente avuto dei contatti con il Feminis e con la sua attività e il quale ad un certo punto a sua volta produce acqua di colonia la storia poi fa abbastanza confusione tra i nomi di questo Giovanni Maria Farina che poi sarebbe però morto a colonia in povertà Giovanni Antonio Farina che era l'aiutante di Feminis i discendenti di costui che vennero battezzati Giovanni Maria Farina e quindi non si sa esattamente chi abbia inventato l'acqua di colonia chi l'abbia perfezionata non esisteva neanche la denominazione per le acque quindi tutte queste formulazioni similari venivano chiamate acqua di colonia fino a che ad un certo punto secoli dopo un Jean Marie Farina discendente probabilmente da Giovanni Antonio Farina giunse a Parigi giunse a Parigi e a Parigi fece fortuna perché le acque di colonia le acque leggere erano diventate di grandissima moda importate in qualche modo da Maria Antonietta a corte e perché Napoleone Bonaparte si era innamorato letteralmente dell'acqua di colonia quella che vediamo qui questa boccetta qui è proprio appartenuta a Napoleone e ha questa forma caratteristica perché Napoleone usava infilarla all'interno dei propri stivali e quindi averla portata di mano ogni qual volta avesse avuto bisogno di rinfrescarsi di conseguenza l'acqua di colonia diventa di grandissima moda impazza proprio e questo fa sì che colonia abbia assunto una nomea indimenticabile nel mondo della profumeria anche dell'acqua di colonia possiamo realizzare una nostra preparazione e rifarci un po' a quella che era la formula originale anche se ovviamente la rimaneggeremo se vogliamo tener conto di quello che ci racconta una parte del mito legato all'acqua di colonia e quindi ritenere come piace ritenere a me che Giovanni Paolo Feminis abbia forse inventato la formula originaria ma che Giovanni Maria Farina l'abbia sviluppata in qualche modo messa a punto e l'abbia resa nota in tutto il mondo che è un po' diciamo l'ipotesi che va per la maggiore anche perché la città di colonia ha dedicato una statua a Giovanni Maria Farina e gli ha dedicato anche un museo che è proprio il museo relativo all'acqua di colonia che speriamo di poter un giorno tornare a visitare in tutta tranquillità ecco noi ci rifacciamo a questa idea che è quella anche che abbiamo visto nel libro di portare verso nord un afflato di aria calda mediterranea anche se la valle di Gezzo per noi è nord però per chi abitava in Germania era l'idea di quella terra dove crescono i limoni che ci avrebbe cantato Goethe quindi si ritiene che Giovanni Maria Farina in una lettera al fratello abbia scritto il mio profumo è come un mattino italiano di primavera dopo la pioggia ricorda le arance i limoni i pompelmi bergamotti cedri i fiori e le erbe aromatiche della mia terra mi rinfresca e stimola i sensi e la fantasia ecco allora noi facciamo anche noi qualcosa che ci rinfreschi che ci rinfreschi nel periodo estivo e che ci sollevi che ci dia tono con questa con questa semplice appunto acqua di colonia come al solito partiamo dal nostro dalla nostra boccetta di vetro scuro avremo bisogno di 100 ml di una base alcolica possiamo usare o proprio la base alcolica per profumi che si può acquistare oppure senza fare grandissimi investimenti come sempre l'alcol alimentare l'alcol alimentare è una gradazione alcolica superiore rispetto a quella dell'acqua di colonia quindi andremo a mettere soltanto 85 ml di alcol e aggiungeremo il restante quantitativo per aggiungere a 100 ml di o acqua distillata o se vogliamo fare qualcosa di molto più raffinato di idrolato di rosmarino oppure di limone oppure di qualche altra sostanza aromatica che rientri nella composizione e che sia gradita al nostro naso dopodiché aggiungeremo le gocce di olio essenziale e quindi rifacendoci alle indicazioni di farina 25 gocce di olio essenziale di bergamotto 25 gocce di olio essenziale di cedro 10 gocce di olio essenziale di neroli o 12 gocce di olio essenziale di rosmarino potete eventualmente sostituire parte delle gocce ad esempio di olio essenziale di cedro con l'olio essenziale di arancio amaro il famoso melangolo che ci veniva citato nel profumo rubato ecco qui boccetta di vetro scuro base alcolica gocce di oli essenziali si chiude si scuote bene si mette a riposare al buio per un mese ogni tanto si va a trovare e si agita trascorso un mese si mette il contenitore in freezer per una notte si toglie poi dal freezer si filtra il liquido con un panno o un filtro da caffè e si conserva sempre in una bottiglia di vetro scuro o in un contenitore spray da portare con sé durante l'estate ecco io credo che per oggi con questo secondo preparato abbiamo materiale con cui trascorrere piacevolmente creativamente i prossimi giorni e ci ritroveremo presto a parlare di altre fragranze e della loro storia e di altre preparazioni profumate grazie e a presto